Eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera ragazzi da The Name Before Tokyo. Oggi torniamo a parlare di One Piece e nello specifico farò un piccolo video remake, diciamo così, di un mio vecchio video che feci all'inizio quando aprì il mio canale verso agosto, quindi era in qualità molto bassa perché fatto con il mio vecchio cellulare. Siccome avevo pochissimi iscritti all'epoca ho pensato di rifarlo, diciamo così. Il video tratta della morte in One Piece, nello specifico di tre personaggi che secondo me dovevano morire. Allora, diciamo subito che in One Piece non muore quasi mai nessuno, è l'eccezione fatta per i flashback e io questa sinceramente è una cosa che apprezzo abbastanza, non mi piacciono infatti quei manga dove magari l'autore fa morire troppi personaggi anche importanti e soprattutto in modo stupido, ecco. Preferisco magari un manga dove non muore nessuno in generale piuttosto che un altro appunto dove i personaggi di spicco diciamo vengono levati di mezzo o addirittura mal sfruttati dall'autore. Fatta questa piccola premessa, nel corso della storia di One Piece, quindi flashback a parte, sono morti solamente Ace e Barba Bianca di personaggi di primo piano e qui è avvenuto tutto in un contesto particolare cioè quello della guerra di Marineford che secondo alcuni è stata proprio costruita apposta per far morire questi due personaggi. Io sono d'accordo solo in parte, comunque oggi non voglio parlare di questo argomento ma parlo di quei soli tre episodi in tutti i 70 volumi di One Piece che diciamo mi hanno fatto un pochino storcere il naso perché secondo me ecco o erano evitabili oppure in quei casi i personaggi dovevano effettivamente morire. Sono comunque solo tre e adesso andiamo dalla posizione numero tre. Il caso è quello di Pagaglia, ovvero il padre di Konis. Sto parlando della saga di Skypea dove appunto questo Pagaglia che è un comune cittadino dell'Isola del Cielo viene preso da un fulmine di Ener, da un attacco appunto dei più potenti e poi lo rivediamo qualche volume dopo appunto con qualche bruciatura ma comunque sano e salvo. Ecco, questa cosa diciamo che avrei preferito magari non fosse accaduta perché mi ha fatto un pochino scadere diciamo il potere di Ener che sappiamo è un potere in grado di distruggere addirittura isole intere e come un potere che appunto ha questa forza distruttiva come mai non riesce diciamo a carbonizzare neanche un omino tra virgolette che non è neanche un guerriero quindi non ha la resistenza che magari possono avere Zoro, Weeper o comunque altri soggetti che hanno preso forti scariche da Ener per cui questa cosa un pochino mi ha fatto storcere il naso ecco, o avrei preferito che magari non fosse stato preso in pieno ma dalla vignetta appunto parla chiaro, sembra essere completamente carbonizzato e altrimenti ecco, avrei preferito che fosse morto in quell'occasione. Al numero due e al numero uno c'è una cosa in comune cioè il fatto che la morte di questi due personaggi secondo me, in particolare di quello che è la posizione numero uno sarebbe stata una morte bella una morte bella perché è avvenuta con significato profondo e che avrebbe contribuito secondo me a innalzare ancora di più la gloria dei personaggi in questione. Sto parlando al numero due di Mr. Chu che appunto sembra spacciato contro Magellan salvo poi scoprire nelle SBS qualche volume dopo che è vivo e vegito e che attualmente ricopre il ruolo che ricopriva prima di lui Vankov quindi nel livello di Impel Down 5.5 e ecco, l'unica spiegazione che mi viene per la non morte di Mr. Chu è il fatto che magari in quel momento quando stava per essere colpito da Magellan sono arrivati Barba Nera, Shiryu e gli altri e quindi hanno mazzolato Magellan e per questo Mr. Chu si è salvato. questa è l'unica diciamo spiegazione che mi viene in mente perché su quella vignetta diciamo sembra che Mr. Chu sia proprio per essere colpito per cui ecco, questa cosa sinceramente non me l'aspettavo anche per via di tutta la frase molto drammatica, romantica, se vogliamo, profonda che aveva lasciato appunto Mr. Chu nell'ultima vignetta di quel volume quando sembra appunto che sia destinato a morte certa. Al numero uno la morte in assoluto che diciamo secondo me più di ogni altra doveva avvenire è uno di quei pochi episodi dove veramente secondo me il personaggio doveva morire sto parlando, forse avrete già capito di Pell Pell il falcone ad alabasta ecco diciamo tutti sanno come è avvenuto questo episodio quando Pell va in cielo e praticamente gli esplode una bomba letteralmente sotto le zampe nonostante questo si scopre la sua appunto che ha resistito e quindi è ancora vivo ecco secondo me proprio in quell'occasione particolare la morte del personaggio che appunto si sacrifica per il bene di un intero paese e per salvare il suo stesso paese del quale rappresenta la divinità salvifica sarebbe stato secondo me un gesto che avrebbe sicuramente fatto balzare questo personaggio tra i miei preferiti in assoluto così non è stato Pell non è morto e quindi diciamo rischia un po' di passare da uno di quelli che potevano essere i più grandi eroi a uno di quelli che sono stati dei fatti uno dei più grandi paraculati diciamo così di tutto One Piece ecco ci tenevo a dire questo molto semplicemente fatemi sapere voi come la pensate se pensate che in quell'occasione Pell e gli altri dovevano effettivamente morire o meno magari iscrivetevi al canale lasciate un commento o qualcosa e buonanotte a tutti ragazzi ciao